benvenuti benvenuti cari amici siamo ubiti in questo nuovo video naturalmente come sempre ricordo di distruggi il botone like, iscrivi il canale, iscrivi anche il canale del gram oggi andiamo a parlare di Shiba Inu perché ci sono importantissime notizie ma iniziamo subito con il suo prezzo che di 2941 in questo momento capitalizzazione di mercato di 16 miliardi vi ricordo che Dogecoin attualmente ha una capitalizzazione di 19 miliardi e secondo me Shiba Inu andrà presto a flippare Dogecoin andiamo a vedere anche il numero di holders ok al momento che sono 1.173.000 come sempre abbiamo Binance al primo posto come holders e naturalmente Crypto.com va ancora ad accumulare SHIB col 2.62% ora però vorrei focalizzarmi sull'aspetto principale che sarà la creazione ok di questo nuovo token in particolare di una stablecoin chiamata SHIB e naturalmente la sua funzione principale sarà che all'interno dell'ocosistema di Shiba Inu in particolare dei Shibers si potrà utilizzare questo token ma non solo secondo me presto lo vedremo su numerosi exchange quindi attenzione perché l'uscita di SHIB come stablecoin potrebbe davvero proiettare Shiba Inu a prezzi secondo me molto ma molto più alti rispetto a quelli attuali il 2022 sarà l'anno di Shiba Inu ve lo chiedo naturalmente voi commentate sotto ok in descrizione ora la situazione è la seguente perché sempre più balene stanno entrando in Shiba Inu quindi secondo me assolutamente Shiba Inu come è stato nel 2021 anche nel 2022 sarà la coin dell'anno questo è un po' l'idea naturalmente deve essere ancora lanciata la blockchain ok di Shiba Inu Shibarium abbiamo il marketplace dell'NFT successivamente verrà costituito anche un nuovo marketplace chiamato Shibanet per cui attenzione perché Shiba Inu veramente creerà secondo me ancora dei milionari ora dove si inserirà SHIB? SHIB si inserirà all'interno di questa stablecoin per cui potremmo trovarla all'interno di questi posti tra Tether secondo me Binance USD e anche Tera USD io penso che nelle prime 5 ci può arrivare tranquillamente anche perché se guardate quelle sotto non è che siano queste stablecoin pazzesche anche come capitezza di mercato se guardate dai raccoglie 9 miliardi ma già la sesta ne raccoglie 2 miliardi quindi secondo me peggiori ipotesi SHI si potrebbe collocare in sesta posizione ora naturalmente abbiamo davanti secondo me solamente a migliorare ok per quanto riguarda l'ecosistema in Shiba Inu presto dovrebbe essere lanciato anche il layer 2 per quanto riguarda Shibarium ok i sviluppatori ci stanno sostanzialmente lavorando e ora naturalmente qui ci si parla anche dello Shibanet che cos'è lo Shibanet? lo Shibanet dovete vederlo come marketplace ok nel quale voi potrete acquistare e vendere ok in particolare dell'NFT con i quali poi voi potrete giocare all'interno del Shibers cioè il metaverso di Shiba Inu naturalmente come è stato già costruito lo Shiba Swap secondo me arriverà anche Shibarium e lo Shibanet ed è proprio anche un altro elemento cioè lo Shibers che potrebbe proiettare Shiba Inu verso un nuovo oltamai naturalmente la costruzione di un metaverso nel quale voi potrete giocare ok con i vostri NFT acquistati su Shiboshis e con l'introduzione anche della stablecoin di Shib potete capire come potrebbe davvero proiettare il prezzo verso nuovi Skyrockets ora andiamo a vedere tre ragioni per le quali le balene Ethereum stanno acquistando Shiba Inu la prima ragione è che si aspettano naturalmente una vasta mass adoption so che oggi può far ridere però secondo me succederà proprio questo perché quello che si sta sviluppando anche addirittura ci sono tantissime compagnie che stanno accettando pagamenti in Shiba Inu quindi questo secondo me potrebbe avvenire naturalmente con vari pump and dump secondo motivo il metaverso di Shiba Inu Shibers secondo me andrà ad attrarre migliaia e migliaia scusate milioni e milioni di persone terzo il potenziale listing ok su Robinhood quindi secondo me potrebbe arrivare alla fine ci siamo presi i principali exchange KuCoin Coinbase Binance quindi non vedo perché Robinhood non la potremmo listare e poi soprattutto anche perché si è raggiunto diciamo un nuovo record ok per quanto riguarda i baleni Shiba Inu perché abbiamo superato FTX proprio per quantità ok di balene che hanno depositato almeno 1000 eth e per cui attenzione sostanzialmente a Shiba Inu ora altra notizia molto importante della seguente chi detiene almeno un leash ok avrà accesso al metaverso i Shiba Inu quindi a Shibers giusto per darvi questa informazione informazione tra l'altro confermata anche su blog shibasop.com per cui è davvero una notizia più che confermata ora vorrei vedere anche con voi questo spot fatto dai toro us nel quale loro vanno comunque a parlare Shiba Inu in maniera indiretta ecco non so se avete visto lo Shiba naturalmente come sapete voi i toro si può acquistare prettamente azioni però il fatto che ci sia anche Shiba Inu attenzione perché secondo me qualcosa bolle in pentola ora andiamo a citare anche l'ish e bon che sono i token dell'ecosistema di Shiba al momento il prezzo di 1300 e 32 vediamo come avevamo avuto veramente un grandissimo Sky Rockets addirittura 4353 al 3 di novembre ora siamo sotto del 70 per cento considerando con una market cap di 100 milioni potete capire come finora rappresenta un centesimo della market cap di Shiba Inu per cui secondo me presto data anche la funzionalità di leash potremo presto vedere anche qui un nuovo ultramine naturalmente come sempre non sono nei consigli finanziari nei consigli trading andiamo a vedere anche la tokenomics perché sostanzialmente rispetto a Shiba è molto più pericoloso perché abbiamo un contratto che detiene il 36 per cento secondo contratto il 6 per cento terzo contratto il 4 per cento e poi appena nel quarto posto troviamo un exchange OKEX con il 3.24 per cento andiamo a vederci anche bone token per per votare all'interno della dow ok di Shiba prezzo di 0.77 cap di mercato di 42 milioni anche qui sostanzialmente guardate che bella dip c'è stata da 15 dollari siamo passati al 77 centesimi e secondo me è ok nell'arco di non so quanto tempo ma secondo me andremo un giorno a recuperare anche qui non dico i 15 dollari però potenzialmente può farlo ok come numeri ora numero di holders qua sono 39 mila ok comunque ne sono pochi naturalmente come leash abbiamo diciamo la locazione di token che non è proprio democratica 27 per cento primo contratto secondo 22 per cento terzo 9 per cento per cui state molto molto attenti però anche qui si potrebbe sfruttare i vari pump e dump ora andiamo a vedere quello che è il prezzo di Shiba Inu al momento siamo a 2.946 abbiamo avuto una bella risposta un bel impulso questo naturalmente molto dipenderà anche da quello che ho credito di Bitcoin abbiamo questa forte resistenza sui 3.500 ora che cosa penso se Bitcoin riparte e Shiba va a rompere i 3.500 secondo me non abbiamo più resistenze fino ai 5.500 ok sostanzialmente quindi nel caso di rottura dei 3.500 attenzione perché secondo me Shiba Inu potrebbe fare un vero e proprio Sky Rockets naturalmente se ti è piaciuto questo video ti ricordo di suggerire il like, di iscrivervi al canale e ci vediamo presto naturalmente vi ricordo anche i servizi che offro io se volete una lezione individuale di 30 minuti il costo è di 25 euro e in più potete abbonarvi sia al gruppo Elite se volete con un costo di 50 euro e al gruppo Premium al costo di 24 euro per cui vi ricordo di suggerire il like, di iscrivervi al canale e ci vediamo presto ciao 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 ciao